Per insegnare ai bambini come comportarsi con gli animali, come accudirli, come avere rispetto per loro. Questo è l'obiettivo della collaborazione tra lo sportello quattro zampe della provincia e Cinofiliamo, associazione impegnata nell'addestramento gentile. Il gruppo di esperti, insieme ai propri filicani, sta facendo tappe in diverse scuole elementari e medie della provincia, illustrandi ai bambini, attraverso brevi racconti, basilari insegnamenti per avere a che fare con i loro amici a quattro zampe. A seguire in giardino la prova pratica, come affrontare un animale sconosciuto, come porsi nei suoi confronti, come e quando reagire. Un percorso educativo fin da piccoli per crescere persone capaci di capire e affrontare i piccoli bisogni dei cani e gatti domestici. Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!